ecco il video che non avrei mai pensato di fare video di ringraziamento per i 500 iscritti al mio canale youtube io voglio ringraziare tutti di cuore le persone che mi seguono da più di un anno le persone che si sono aggiunte nelle ultime settimane ringrazio anche fabio che mi ha ospitato sul suo canale ringrazio tutti voi per la fiducia per me davvero è un traguardo è un traguardo importante e voglio festeggiarlo voglio condividerlo con voi l'altro traguardo importante è quello di aver raggiunto negli ultimi mesi la soglia delle 15 mila visualizzazioni non sono numeri enormi ma per me sono molto importanti io non parlo mai di me nel mio video cerco sempre di parlare di di quelle che sono i miei servizi di quella che la mia professione di aiutare il candidato a trovare lavoro non mi soffermo mai a raccontare la mia storia la mia vita cerco sempre solo di proporre soluzioni oggi vorrei aprirmi con voi e raccontarvi come è nato il mio progetto di youtube perché è importante per me youtube youtube per me è stata la soluzione ad un problema il problema il problema di non credere in me stessa io spesso quando faccio i corsi di comunicazione quando faccio corsi di personal branding quando faccio i corsi per trovare lavoro dico sempre candidati tu devi trovare la tua unicità devi trovare qualcosa che ti distingue ma per fare questo devi credere in te stesso io questa frase l'ho ripetuta a me stessa nell'ultimo anno e mezzo non so quante volte quando vedevo che le visualizzazioni dei miei video erano bassi molto al di sotto di quelle che erano le mie aspettative dicevo sì via non mollare adesso vedrai che prima o poi arriverà il tuo pubblico ti ascolteranno ci sarà quel quel legame con quelle persone e troverai anche tu quella fiducia che negli ultimi anni è perso per me youtube è stata una terapia io dico spesso quando una persona è diabetica arrivata a un certo stadio del diabete il medico prescrive a questa persona la pasticca la compressa l'insulina insomma la medicina quello che serve per migliorare il suo stato e farla sentire meglio per me youtube è stato in quest'ultimo anno e mezzo la mia terapia io ho girato sono trovata a registrare video con il trucco che mascherava le mie occhiaie sono trovata a girare video a sorridere in video almeno ho provato a fare questo quando dentro avevo l'inferno ho provato a girare video ho registrato video quando avevo tutto fuorché voglia di dare consigli alle persone per me youtube è stato veramente terapeutico mi ha migliorato tantissimo dal punto di vista comunicativo mi ha migliorato soprattutto dal punto di vista umano della persona e oggi poter condividere con voi il traguardo dei 500 iscritti e poter condividere con voi la notizia che siamo che siamo insieme perché anche voi con me fate parte di questo viaggio siamo arrivati alle 15 mila visualizzazioni per me è veramente qualcosa che ha una valenza simbolica che non riesco neanche a descrivere quindi vi volevo veramente ringraziare di cuore vorrei ringraziarvi uno ad uno quindi 500 volte grazie grazie di accompagnarvi di accompagnarmi in questo straordinario percorso e ci vediamo con nuovi contenuti qui sul mio canale ciao 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 ciao